Gord Ramsey e lalta velocità Gord Ramsey e lalta velocità, con la pellicola sulla targa Frego gli autovelox Gord Ramsey ha ammesso in una intervista al Daily Mirror di eludere il controllo degli autovelox con il trucchetto della pellicola trasparente sulla targa In questo modo, infatti, linflessibile scatto della fotocamera non riesce a distinguere bene la targa della sua Ferrari Lo ammette con candore in una intervista che, in Gran Bretagna, sta facendo discutere Guido di notte, quando nessuno mi vede Lo chef televisivo ammette di guidare la sua Ferrari soprattutto di notte, come i pipistrelli, quando non cè traffico a Los Angeles Non è mai stato multato, dice, perché la pellicola trasparente sul numero di targa riflette i flash della telecamera Guido la mia auto di notte, quando nessuno mi vede La prendo verso le 2.30 del mattino e vado in autostrada, nonché polizia e per gli autovelox risolvo avvolgendo la targa di pellicola trasparente È una cosa appropriata per un cuoco Il limite di velocità sulle autostrade di Los Angeles Il gesto di Gord Ramsey è sicuramente poco etico, ma fa il paio con il limite di velocità che sulle autostrade di Los Angeles è davvero basso Appena 65 miglia orarie, ovvero appena 104 chilometri orari Gord Ramsey sarà di certo sommerso dalle critiche anche questa volta Lo chef, che ha ben otto Ferrari, ha detto di sentirsi spesso in imbarazzo quando arriva al lavoro con uno dei suoi bolli E' però molto schietto nel constatare che ho otto Ferrari ma non ho mai dimenticato quello che ho dovuto fare per averle